Grazie a tutti. 1 su 614 tamponi con l'indice di contagiosità che schizza al 13,2%. Dopo le denunce dei parenti delle vittime Covid, la procura di Campobasso si muove. Conferito l'incarico ai carabinieri del NAS di indagare su quanto accaduto al Cardarelli, il comitato chiede di accertare il disastro sanitario, ma al momento si bagliano varie ipotesi. Nuovo boom di casi a Campomarino, altri 26 e a Termoli 16. Qui la preside Chimisso smentisce l'esplosione di un focolaio nella sua scuola, l'alberghiero. A nessun consigliere assessore regionale è stato somministrato il vaccino, la certificazione dell'ASREM e il sindaco di Vinchiaturo chiede le dimissioni di Aida Romagnuolo. L'ordine dei medici di Campobasso non fa più parte dell'unità di crisi Covid regionale. Nessuna risposta sulla nostra richiesta di vaccinare liberi professionisti o dontoiatri, hanno spiegato i vertici. Serata di terrore, quella di ieri tra Coglio al Volturno e Isernia, tre le ville svaliggiate. Nel capologo Pentro, incontrata a Breccelle, una donna di 80 anni, è stata travolta dai ladri durante la fuga. Si stringe il cerchio attorno ai malviventi, furti anche a Termoli. Infine lo sport il calcio con una superprestazione. Il Campobasso batte 4 a 1 e il Rieti allunga in testa sulla seconda. Ottima prova anche del vasto Girardi che supera in casa l'Alba Longa 2 a 1. Nel bar a Torolagnonese che perde a Fiugi e registra le dimissioni del DS Strino. Ben trovati, nuova edizione del Tg di Teleregione. Come avete sentito è un'ennesima giornata nera sul fronte dell'emergenza coronavirus perché si registrano altri sei decessi per Covid e ci sono anche sei trasferimenti in terapia intensiva con la pressione sul Cardarelli che si fa sempre più pesante. 81 i nuovi casi su 614 tamponi e un indice di contagiosità che sale al 13,2%. Sentiamo tutti i dettagli relativi al bollettino nel servizio. Una tragedia che non si ferma. Altri sei deceduti per Covid in Molise. Tra loro un uomo di 63 anni di venafro che nelle scorse ore era stato ricoverato in terapia intensiva. Due donne di 89 e 78 anni rispettivamente di Sant'Elena Sannita e Campobasso entrambe erano in malattie infettive. E non ce l'hanno fatta nemmeno un'altra donna, 80enne di Morrone del Sannio che era ospite della casa di riposo di Ripa Limosani, un uomo di 87 anni di Santeria Pianisi che era nella RSA del Piccolo Centro e un 94enne di Frosolone che ha perso la vita nella propria abitazione. Notizie drammatiche aggravate dall'apprensione per sei persone trasportate in terapia intensiva e ora questo reparto è al limite con 11 pazienti, ma ci sono anche altri 5 ricoveri in malattie infettive e qui i degenti complessivamente sono 62. Con 73 pazienti Covid la situazione al Cardarelli si fa sempre più pesante. Aumenta il numero delle vittime, ora 282, e sale anche il tasso di contagiosità che è al 13,2%. Dai 614 tamponi processati infatti sono risultati altri 81 casi. Nuovo boom a Campomarino, ben 26, e a Termoli 16 nuovi positivi. Ma ci sono anche i 10 casi di Campobasso, i 6 di Portocannone, i 3 di Larino e di Ururi. Guarite 29 persone, quindi gli attualmente positivi sono 1.232, 1.455 invece i soggetti in isolamento. Dopo appelli, sfoghi e denunce, la Procura di Campobasso si muove e indaga su quanto accaduto in questi mesi all'ospedale Cardarelli, nello specifico sull'assistenza fornita ai pazienti Covid, i carabinieri del NAS sono stati incaricati dal Procuratore Capo Ricola d'Angelo di indagare. Appunto, al momento si vagliano tutte le ipotesi. Gli accertamenti sono appena iniziati, quindi bisognerà verificare la corrispondenza tra gli eventuali rilievi del NAS e le denunce depositate in Procura. Il Comitato delle Vittime ritiene che ci siano i profili del disastro sanitario, ma come detto occorrerà aspettare per eventuali riscontri. Torniamo ora a parlare del caso vaccini, come accertato dall'ASREM. Non ci sono consiglieri e assessori regionali nell'elenco delle persone che si sono sottoposte al vaccino. La vicenda è chiusa, ha detto il Presidente Toma, avrei preferito non aprirla. E su Aida Romagnolo, che aveva appunto lanciato questo tema, dice Ognuno risponde delle proprie azioni davanti al popolo molisano. Pierluigi Borragine. Eccolo il documento ufficiale con cui l'ASREM mette la parola fine sul caso vaccini ai furbetti portato in Consiglio regionale dalla consigliera Ida Romagnolo. Nell'elenco delle persone cui sono state somministrate le dosi non ci sono consiglieri e assessori regionali. Solo sette sindaci, si legge nel documento, che ne avevano diritto in quanto operatori sanitari. In calcio e alla relazione indirizzata al Presidente della Regione Donato Toma, le firme del Direttore Sanitario Vergina Scafarto e del Direttore Generale Oreste Florenzano. Una tempesta in un bicchiere d'acqua che gli inquilini di Palazzo Daimmo avrebbero fatto volentieri a meno. Assolutamente non ce ne sono. Io mi attengo alle risultanze ufficiali, comunicatemi in maniera ufficiale dall'ASREM. Ma per me la vicenda non si doveva proprio aprire, ma a questo punto è chiusa. Senta, ripercussioni per la Romagnolo ce ne saranno? Beh, per quel che mi riguarda non ho motivo di generare ripercussioni. Ognuno è responsabile di ciò che dice davanti al popolo molisano. Nel documento si precisa altresì che i punti vaccinali attivi sono quelli aziendali e quelli delle strutture private accreditate. Ed il personale da vaccinare è stato programmato in accordo con le indicazioni del commissario straordinario Arcuri e validato dalla cabina di regia. Ma si legge ancora nella nota, per quanto riguarda le modalità di vaccinazione dei punti extra aziendali, ASREM non ha alcuna competenza in merito alle priorità definite per singola struttura accreditata. Toma infine si è soffermato sulle risorse, 14 milioni e 800 mila euro, che il Ministero ha messo a disposizione del Molise per la ristrutturazione sismica del Santimotio di Termoli. Abbiamo chiesto un intervento importante per tutti e quattro gli ospedali molisani Agnone, Isernia, Campobasso e Termoli. Il Ministero per ora ci ha assegnato 14 milioni e 880 mila euro per Termoli. Noi li prendiamo perché ci servono e perché vogliamo valorizzare quell'ospedale che è importante per tutto il Basso Molise, ma non finisce qui perché aspiriamo a fare interventi importanti sia su Campobasso, sia su Agnone, sia su Isernia. In merito c'è da riscontrare la dichiarazione del Sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente, che auspica le dimissioni della consigliera regionale Aida Romagnolo. La consigliera ha gettato fango sui propri colleghi, ma anche su tutti i sindaci e gli amministratori del Molise, alimentando ingiustificati sospetti su tutti i primi cittadini. Queste le parole di Luigi Valente. L'Ordine dei Medici di Campobasso non fa più parte dell'unità di crisi Covid del Molise. Nessuna risposta sulla nostra richiesta di vaccinare i liberi professionisti e gli odontoiatri, hanno detto i vertici dell'organismo, e la metà delle guardie mediche sta lavorando senza aver ancora ricevuto una dose. Rita Iacobucci. Affirmo, la campagna è già completata. Senza andare così lontano, anche Caserta e Napoli stanno vaccinando i medici liberi professionisti e i dentisti. All'Ordine di Campobasso, che da oltre un mese sollecita regione, struttura commissariale e ASREM, è stato risposto che invece bisogna attendere. Cosa dice Arcuri? Il piano nazionale parla solo di personale sanitario convenzionato e non più ad ampio raggio autorizzato, ma molte altre regioni in autonomia hanno eliminato questa discriminazione. Il Molise no. Carolina Di Vincenzo perciò non parteciperà più all'unità di crisi regionale coordinata dal presidente Toma per la gestione dell'emergenza Covid. Deve passare questo messaggio di vaccinare tutti gli operatori, non perché questo sia un privilegio, ma perché è l'unico modo per arginare il contagio anche nel territorio. Penso che dobbiamo attendere la risoluzione di questa vicenda per risiederci nuovamente al tavolo. Sempre ammesso che ci chiameranno. Medici come gli altri, a rischio come gli altri, chi ha uno studio professionale a cui negli anni e adesso ancora di più i molisani si rivolgono per sopperire alle carenze della sanità pubblica, ha quindi lo stesso diritto di un ospedaliero di ricevere la doppia dose di Pfizer. È un problema di salute pubblica perché così si proteggono anche i pazienti, spiegano i vertici dell'ordine, e non una battaglia di categoria. Fin dagli inizi di questa pandemia siamo stati chiamati alla responsabilità di trattamenti di feriti, di fare soltanto trattamenti di urgenza. E questo sottolinea il fatto che noi siamo sottoposti al rischio. Quello che noi cerchiamo di attuare nei nostri studi è la completa sicurezza dei nostri pazienti e la sicurezza passa anche e soprattutto attraverso la vaccinazione di tutto il team di studio. E se per i medici di base la campagna, si può dire a grandi linee, è completata e è rimasto escluso comunque il personale di studio. Se il principio è che va immunizzato l'ospedale dall'anestesista a chi aggiusta la caldaia, così deve essere anche per gli studi medici, senza contare poi che la mità delle guardie mediche sta continuando a lavorare senza aver ricevuto il vaccino. E che Regione Asrem non hanno dato nessun seguito alla richiesta di medici vaccinatori volontari. L'ordine ha inviato l'elenco e poi più nulla. Dall'azienda sanitaria, anzi aggiunge l'ordine dei medici, e finora non ci è arrivata neanche una risposta, pur se per cortesia istituzionale, alle nostre tante richieste. L'ho definita insopportabile umiliazione perché credo che, per tutto quello che abbiamo già detto, non vorrei ripetermi, è veramente un'insopportabile umiliazione, oltre che un fatto immorale, secondo il mio punto di vista, nei confronti di larga parte dei nostri iscritti. Scuole chiuse a Termoli come forma cautelativa e per difendere la comunità. Sappiamo che il sindaco ha optato per questa scelta, ma sul tema è intervenuta la preside dell'alberghiero Chimisso per smentire le voci di un'esplosione di un cluster proprio nel suo istituto. Sentiamo. Per il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, l'istituto alberghiero Federico di Svevia è tra quelle scuole che presentano positivi al Covid-19. Il sindaco lo ha messo nero su bianco in una nota inviata alla dirigente scolastica, Maricetta Chimisso, che dopo aver interagito con Aserem e Ufficio Scolastico Regionale, ha confutato la ricostruzione del primo cittadino e convocato la stampa per fare piena chiarezza sulla vicenda, sottolineando al contrario gli sforzi organizzativi compiuti per adottare e far rispettare il protocollo anti-Covid sin dallo scorso anno. All'istituto alberghiero non è accaduto proprio nulla. Vi ho convocato oggi per ribadire un secco no relativamente a tutte le notizie che sono rimbalzate sui social, sugli organi di stampa e anche nei documenti istituzionali inviatici da alcuni di Termoli, in ordine a un supposto cluster che si sarebbe creato, un focolaio scoppiato all'interno della scuola, che non c'è. In realtà non abbiamo neanche alcuna notizia accertata di tamponi molecolari positivi. Io rivendico un'attitudine all'eccellenza in questo campo. Ci siamo mossi immediatamente indossando mascherine con il personale già alla fine di febbraio, ormai è un anno esatto, e adottando una serie di documenti. I più significativi ritengono siano il protocollo adottato nel mese di maggio, costituendo il comitato di vigilanza con le rappresentanze sindacali, il servizio di prevenzione e protezione e il medico competente all'interno dell'istituto, che ha redatto protocolli di comportamento confluiti nel documento di valutazione dei rischi. Abbiamo integrato il patto educativo di corresponsabilità, abbiamo integrato il regolamento d'istituto e, consapevoli che senza la collaborazione delle famiglie non si sarebbe andati da nessuna parte. Abbiamo anche distribuito un vademeco di comportamento che incide sia sulle attitudini all'interno della scuola che sui comportamenti nell'ambito domestico. Nessun cluster, dunque, l'alberghiero, la scuola, tuttavia, resta chiusa come deciso dal sindaco. Guardi, ogni provvedimento cautelare che vada nella direzione di proteggere, tutelare e difendere l'interesse della collettività è un documento condivisibile. Siamo evidentemente in una fase estremamente delicata. L'innalzamento della barriera di protezione è una scelta importante, sofferta ma necessaria. Noi nel nostro piccolo dobbiamo contribuire con la chiarezza, la correttezza e la veridicità delle informazioni a difendere la collettività che ci viene affidata. Restiamo a Termoli dove nel pomeriggio il sindaco Roberti insieme all'assessore della protezione civile Michele Barile hanno incontrato i rappresentanti delle forze di polizia locali, quindi il vicequestore di polizia Maria Concetta Piccitto, il maggiore dei carabinieri Alessandro Vergine, il comandante della Guardia di Finanza Luca Varanese, il vice comandante della polizia locale Pietro Cappella, oggetto del summit, un'intensificazione dei controlli per il rispetto delle norme anti-covid, visti gli assembramenti che ci sono stati nei giorni scorsi, quindi è stata definita la necessità di porre in essere determinate azioni per evitare che le zone nevralgiche della città, cioè quelle della Movida, possano accogliere dei gruppi di persone e quindi veicolare il contagio, controlli che verranno estesi anche alle attività commerciali per verificare l'adozione delle regole sancite. Ed ora veniamo alla crisi di governo, a quanto sta accadendo a Roma che tiene in attenzione tutto il paese, Mario Draghi ha accettato con riserva l'incarico di Presidente del Consiglio che gli ha conferito il Presidente Mattarella, più di un'ora colloquio con il Capo dello Stato, più di un'ora anche per il colloquio con l'ex Premier Giuseppe Conte, c'è un dibattito aperto all'interno del Movimento 5 Stelle con il reggente Crimi che proprio in queste ore ha dichiarato che il voto sulla piattaforma Russo non è escluso, intanto il senatore del Movimento 5 Stelle molisano Fabrizio Ortis ha detto un secco no alla fiducia al governo Draghi, diciamo no a un governo tecnico guidato da Draghi senza preconcetto alcuno ma con la ferma convinzione che l'unica scelta possibile per il nostro paese sia quella di un governo politico, queste le parole di Ortis e c'è anche la riflessione che ha fatto in queste ore il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, anche lui molto netto, molto chiaro, penso che Mario Draghi non sarà il prossimo Presidente del Consiglio dei Ministri, francamente lo troverei anche giusto, non per la persona, figurarsi, dice Gravina, sia professionalmente sia umanamente come si può obiettare, politicamente però è un'altra cosa, quindi altrettanto netto, Gravina, è stata una giornata di incontri per Antonio Federico, il deputato molisano del Movimento 5 Stelle che ha detto non so cosa accadrà ma di sicuro non rinuncio ai valori fondanti del Movimento e quindi bisognerà attendere per capire se ci sarà o meno questa fiducia. Passiamo ora allo sciopero che è stato proclamato da CGL, CISL, UGL per la giornata di lunedì 8 febbraio, parliamo di trasporti, uno sciopero che ci sarà dalle 9 alle 13, i sindacati contestano l'operato dell'ATM in quanto risultano ancora delle spettanze non pagate nonostante gli appelli rivolti al Presidente della Regione, all'Assessore dei Trasporti Pallante per un loro intervento e quindi lunedì ci sarà una protesta simbolica proprio nei pressi della sede dell'azienda a Ripalimosani. Serata di terrore, quella di ieri, tra Colli al Volturno e Isernia sono state svaliggiate tre ville, una donna di 80 anni è venuta a contatto con i ladri che le sono piombati addosso in contrada Breccelle indagano le forze dell'ordine, sentiamo Nicola De Santis. Serata di terrore in provincia di Isernia, una banda di ladri ha colpito in diverse abitazioni riuscendo poi a dileguarsi al termine dell'ultimo colpo. I malviventi, almeno due a bordo di una berlina scura, hanno dapprima svaliggiato una casa isolata a Colli al Volturno. Si sono poi diretti verso Isernia dove hanno visitato due ville in contrada Breccelle. Nella seconda abitazione però sono stati sorpresi dalla proprietaria che, rientrata a casa dopo una giornata di lavoro, ha trovato la porta della camera matrimoniale chiusa a chiave con i due ladri all'interno. Vistisi scoperti, si sono calati dal balcone, non prima però d'aver rubato tutto l'oro presente in casa. Uno dei due energumene ha spintonato con forza la madre ottantenne della proprietaria che dalla legnaia stava rientrando in casa. I malviventi si sono poi dileguati nelle campagne circostanti. A Breccelle è giunto il personale di Isernia Soccorso, che ha visitato la ottantenne, rimasta per fortuna in colume, nonostante lo shock per quanto accaduto. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi. Intanto la squadra volanti della questura si è lanciata all'inseguimento dei ladri in fuga. Su tutto il territorio è scattato il piano antirapina, con le forze dell'ordine che hanno presidiato, sino a tardanotte, le principali vie di collegamento con Lazio e Campania. A disposizione della squadra mobile c'è anche la targa parziale della berlina utilizzata per i furti. La sensazione è che i malviventi abbiano le ore contate. Torniamo a Termoli, dove ci sono stati in questi giorni diversi furti, un vero e proprio raid compiuto da soggetti provenienti dalla provincia di Foggia. Diverse le denunce presentate ai carabinieri. Era sparita una Fiat Panda del settore lavori pubblici che era parcheggiata in piazza Sant'Antonio, auto che poi è stata ritrovata dopo poche ore in via Sardegna. Un altro tentato furto è stato compiuto all'autolavaggio i faraoni di via Corsica, mentre in via Lissa sono state danneggiate delle auto in sosta. Sempre dalla Puglia a Termoli sono arrivati con arnesi atti allo scasso. I carabinieri del Nord hanno fermato in via Corsica tre soggetti che erano a bordo di un'utilitaria, peraltro già noti alle forze dell'ordine, un 22enne e un 18enne di Torre Maggiore e un altro 18enne di San Severo. All'interno del veicolo nascondevano un paio di guanti da lavoro in stoffa e gomma, tre cacciavite di cui uno modificato, una chiave inglese, un connettore per collegamento alle centraline elettroniche dei veicoli a motore e il materiale è stato sequestrato. Per i tre pugliesi invece è arrivata una denuncia con un foglio di via e una multa da 2.133 euro. Ci sono delle buone notizie per i piccoli comuni italiani, per la loro tutela, per il loro rilancio. È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, l'avviso relativo al decreto del Ministro dell'Interno che assegna a ogni comune italiano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti 81.300 euro di contributi da utilizzare per mettere in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale per abbattere le barriere architettoniche. Lo ha reso noto il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Federico. In Molise sono coinvolti 35 comuni della provincia di Campobasso e 32 della provincia di Isernia. Nella seduta di ieri del Consiglio regionale è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno a firma della consigliera Filomena Calenda, avente ad oggetto sviluppo della montagna molisana e estensione dell'impegno assunto dal Presidente della Giunta anche al Comune di Pesco Pennataro. Il documento, ha spiegato Calenda, ha l'intento di allargare la platea degli attori chiamati a dare il loro contributo per lo sviluppo della montagna molisana, motivo per cui ho impegnato la Giunta a coinvolgere insieme ai comuni di San Massimo, Roccamandolfi e Capracotta anche quello di Pesco Pennataro, già protagonista di una serie di progetti volti a favorire la crescita del comparto turistico e sciistico al Tomolisano, un territorio che inoltre vede la presenza di numerose strutture ricettive. E' stato un giorno importante, quello di oggi, per il luogotenente Ermene Gildo Neosi, esponente dell'Arma dei Carabinieri, comandante della stazione di San Giuliano del Sannio dal 1991, nel giorno del suo compleanno, dopo un lunghissimo e bel percorso umano, oltre che professionale dell'Arma, che lo ha visto in questi oltre 40 anni sempre impegnato in attività di servizio davvero rilevanti, lascia il servizio attivo. Figlio dell'Arma e comandante di stazione, il luogotenente Neosi, dopo 30 anni, ha vissuto diversi spostamenti per approdare a San Giuliano e di lui tutta la popolazione manterrà sempre un ottimo ricordo per quello che è stato il suo servizio. Quindi auguri per la pensione al luogotenente Neosi. E' il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà nelle prossime ore in Molise. Previsioni del tempo di giovedì 4 febbraio. Si va affermando un campo di alte pressioni, alimentato da aria calda dal Nord Africa. Giornata stabile, ma non sempre soleggiata per il transito di velature o stratificazioni, nonché locali nebbie o nubi basse, nottetempo e al primo mattino. Temperature in aumento, specie in quota, venti deboli, mari poco mossi. Ecco le temperature sui maggiori centri della regione. Campobasso minima 6, massima 18 gradi. Isernia 8,18, Termoli 8,19, Venafro 9,19. Ora una brevissima pausa. Restate con noi perché tra poco ci sarà un'ampia pagina sportiva. Oggi turno infrasettimanale per la Serie D, una super vittoria per il Campobasso e anche per il Vasto Girardi. Invece è stata una giornata nera per l'Olimpia agnonese. Tra poco vi raccontiamo tutto. Eccoci tornati insieme per parlare di sport. Come si diceva oggi in campo la Serie D, vediamo tutti i risultati della quindicesima di campionato per il Girone F. Aprilia, Olimpia agnonese 4 a 0, Campobasso Rieti 4 a 1, Castelfidardo Pineto 2 a 1, Castelnuovo, Porto Sant'Elpidio 0 a 0, rinviate Matese Giulianova e Monte Giorgio Fiuggi 2 a 1 per il San Nicolò Notaresco sulla Re Canatese, Bastese Tolentino 3 a 1, infine la vittoria del Vasto Girardi per 2 a 1 in casa sul Cinzia Albalonga. Vediamo la classifica. Lunga in testa il Campobasso che ora comanda con 30 punti, a 27 il Castelnuovo Vomano a 25, il San Nicolò, il Rieti a 24, il Vasto Girardi a 23, quinta in classifica quindi la squadra alto molisana a 21, Castelfidardo e Cinzia Albalonga e l'Olimpia agnonese la vediamo in fondo con soli tre punti insieme al Porto Sant'Elpidio. Ci sono diverse partite da recuperare anche per le molisane. Quindi è stato un vero e proprio show al Romagnoli quello del Campobasso, doppietta di bontà, numeri per Esposito e anche per Di Domenico Antonio che hanno firmato le quattro reti dei Rosso Blu. Il collega Francesco Presutti ci racconta questa importante vittoria. Il Campobasso cala il poker contro il Rieti e consolida la sua leadership nel girona F della Serie D. La gara, a dire il vero, si era messa subito in salita per i Lupi. Dopo appena un minuto infatti Galvanio approfitta di una grossa incertezza di Davide Piga per mettere a segno la rete del vantaggio dei laziali. I Rosso Blu sono però bravi a non perdere la calma e al settimo agguantano il pari grazie al solito vittorio Esposito che sulla sinistra fa fuori la difesa ospite e sorprende Scaramuzzino. I ragazzi di Mirko Pudini non si accontentano e provano subito a ribaltare il risultato. Al quattordicesimo Brenci tenta di piazzare il tiro con un piattone ma trova una deviazione. Al minuto 31 Esposito su punizione pennella un passaggio per Cogliati ma il numero 9 non è preciso. Il raddoppio si concretizza al trentatresimo angolo dell'onnipresente vittorio Esposito 8 per lui in pagella e testa dell'ormai cannoniere Francesco Bontà. Al quarantesimo il centrocampista Rosso Blu mette a segno ancora di testa la sua ottava marcatura stagionale. Nella ripresa non accade praticamente nulla fino al sessantottesimo con Zammarchi che in area di rigore si fa parare il suo tiro dall'estremo difensore del Rieti. All'ottantunesimo quindi un tiro deviato di Esposito e un minuto dopo la traversa nega a Bontà la gioia della tripletta. Cudini nel finale regala la standing ovation al fantasista di San Martino in Pensilis inserendo Di Domenico Antonio che all'ottantanovesimo fissa il punteggio sul 4 a 1 siglando la sua seconda marcatura con la casacca Rosso Blu. Nei minuti di recupero ancora un palo per il Campobasso sempre con Di Domenico Antonio. Cogliati è più lesto sulla carambola ma non riesce a mettere dentro. Per la formazione del patron Mario Gesuè terza vittoria di fila e quota 30 in classifica generale e domenica prossima c'è l'impegno in casa del Fiuggi. Una situazione buona per il Campobasso che deve recuperare due partite. La seconda in classifica il Castelluovo non ha partite da recuperare mentre il San Nicolò come il Campobasso deve giocarne ancora due. Quindi con questo distacco si è messa più al sicuro la squadra di Cudini. Il vasto Girardi non si ferma più accentrato oggi. Il terzo risultato utile consecutivo al Di Tella sul proprio impianto nelle condizioni meteorologiche anche difficoltose ha superato per 2 a 1 il Cinzia Alba Longa. Dopo un avvio all'insegna dell'equilibrio l'undici di Prosperi è passato in vantaggio con Guida al trentunesimo dopo un bel triangolo con Pesce. Nel recupero del primo tempo Pacciardi in proiezione offensiva è stato atterrato in aria. Il rigore è stato realizzato da Fioretti che ha spiazzato l'estremo difensore dei Capitolini. Nella ripresa in pieno recupero un fallo in aria di Ruggeri e basso il secondo penalty di giornata che Cardella ha realizzato siglando il gol della bandiera per gli ospiti. E come abbiamo sentito ad Aprilia c'è stata una netta sconfitta per l'Olimpia Agnonese. La terza consecutiva i Granata sono andati sotto di due reti già nei primi minuti dopo un quarto d'ora per le realizzazioni di Vasco ed Oliveira dagli 11 metri. Prima della fine del primo tempo la Ghigna ha siglato il 3 a 0 e a 5 minuti dalla fine ha chiuso i conti Guadriogo per il finale 4 a 0. Per i Granata è un periodo nero. Sono in fondo alla classifica. Prima della partita erano arrivate anche le dimissioni del direttore sportivo Antonello Strino comunicati ufficialmente dalla società. Un amore mai nato quello col club Granata né con lo staff tecnico e nemmeno con la città di Agnone. Ed ora il Cus Molise che è all'opera in vista del recupero di sabato nelle Marche in casa del Lucrezia. L'obiettivo è quello di riscattare lo stop di Manfredonia. Una sconfitta su cui è tornato Pascoal. Sapevamo ha detto che era una partita difficile. Purtroppo abbiamo dovuto fare a meno di giocatori importanti come Barrichello e Triglia. In partite come quella il loro contributo è importante. Ora ci attende un'altra gara. Il fondo è di gomma. Noi non siamo abituati. Loro sono una buona avversaria ma dobbiamo andare lì per vincere. È tutto per questa edizione. Vi ricordo che potete rivedere tutti i nostri servizi, le edizioni del TG online tramite la pagina Facebook e il sito web teleregionemolise.it. Grazie per essere stati in nostra compagnia e arrivederci. Grazie per aver guardato il video.